Ciao, sono Massimo Meneghello Canoso dell'azienda Canoso e qui, come vedete, siamo in Cadelvento. Originariamente chiamata anche Monticello, questa è l'unità geografica più piccola della zona del Soave. Alle mie spalle abbiamo il comune di Monteforte con le colline del Soave e la propagine più lontana della zona classica. Divisa dall'abitato, dagli altri versanti collinari, sulla mappa sembra quasi una piccola isola confinata a sud-est del Soave Classico. Nonostante questo, la struttura basaltico-vulcanica del suolo ne conferisce la componente che va a legarsi con la struttura della zona del Soave Classico. Se non si è capito, il nome di questa unità geografica deriva proprio dai venti che vengono giù dall'alta Val d'Alpone, infatti si chiama Cadelvento. Da Cadelvento noi produciamo verso il nostro Soave superiore, proprio verso perché va verso una maggiore struttura del prodotto. La fortuna di avere le nostre unità geografiche aggiuntive, come la Cadelvento, è stata di avere dei territori e delle posizioni diverse che danno dei prodotti completamente diversi uno dall'altro. Da noi abbiamo la fortuna di avere un'altezza di 90 metri sul livello del mare con una ventosità eccessiva a volte, ma che poi dà la possibilità di avere delle uve salubri con un'esposizione sud-est che assieme al vento e il sole si è dato più soddisfazione. E quindi abbiamo deciso di puntare tutto su questo meraviglioso Soave che è appunto il verso, unità geografica aggiuntiva, Cadelvento.